Sono Andrea Mauro e sono un consulente indipendente e sono stato invitato all'IT Press Tour edizione 14. Cos'è l'IT Press Tour? È un evento particolare organizzato, almeno in questa edizione e spesso anche nelle altre, nella Silicon Valley per poter incontrare aziende del territorio e in generale, visto il territorio, le aziende che innovano nel mondo dello storage, del cloud dei big data e effettivamente questo tipo di evento è un evento molto interessante perché permette di portare giornalisti, analisti o anche persone consulenti come me all'interno delle varie aziende a parlare con ICT o CEO o comunque con persone di spicco per capire la vision, le idee, le strategie di queste aziende e spesso anche per individuare alcune aziende assolutamente innovative. Quindi è un evento assolutamente da non perdere.